Siamo qui in piazza Marconi dove c'è il presidio della Lega, la manifestazione della Lega contro alcune iniziative del governo e la sostegno dell'opposizione. Vediamo, leggiamo cartelli, stop alla sanatoria clandestini, flagstax, fiducia nelle imprese, stop alle cartelle fiscali, il tempo è scaduto, quindi sono delle parole d'ordine che devono essere portate avanti dall'opposizione e trovare consensi anche nel paese. Ecco qui una manifestazione distanziata, molto sobria, corretta, silenziosa, rispettosa delle norme previste, i cartelli parlano da soli, c'è questa testimonianza sia fisica delle persone ma anche attraverso il messaggio mandato. Ecco facciamo un panorama anche di fianco, ecco molto bene, direi che Alessandria partecipa come centinaia di piazze italiane a questo avvenimento, abbiamo qualche centinaia di persone, in testa abbiamo Molinari, l'onorevole Molinari e parte della giunta, il sindaco compreso, sono proprio qui davanti a noi. Possiamo affiancare un attimo la manifestazione per vedere anche di lato, vieni, ecco qua, vedete, ecco questo è l'insieme dello schieramento, chissà se riusciamo a sentire qualcuno, se non riusciamo vi trasmettiamo le immagini e anche questo sono un messaggio. Ecco sembra un sit-in di testimonianza di qualcosa che viene chiesto a gran voce, in silenzio ma a gran voce. Va bene professore, chiudiamo il collegamento, arrivederci a tutti e sempre buon 2 giugno.